Ok, data un po' veloce. Allora, ultima partita, si gioca contro il maestro internazionale tedesco, 2600 quasi, elo per lui. Jonas Rosner, se vinco raggiungo i miei 6 punti e mezzo, che vorrebbe dire il record. Se perdo, no. Se pareggio, va bene. E qui, diciamo, è il risultato della volta scorsa. E credo che è iniziato con un elo di 2470, quindi comunque sia la performance elo è sicuramente più alta. Il mio avversario pensava fossero soltanto, solo 10 turni, perché qui ho 30 secondi in più e 30 secondi in più. Sicuro che non li recupera. Apertura Karokan. E, d'accordo, non ci giochiamo questa. È una Karokan strana. Alfiere G4 è quella più frequente. Cavallo di sé. C'è un G4. E ci orientro in una francese, però andiamo per un percorso strano. Quindi qui, alfiere G4, ti inchiodo. Ti inchiodo perché voglio posizionare tutti i miei pedoni su casa nera. Su casa bianca. Quindi questa è un alfiere che sono disposto a dare senza pensarci troppo. E cavallo qui. Avanti con C5. Questo cavallo stona un po'. Deve essere riportato in gioco. Ok. Va bene. Questa è un'apertura strana, sequenza di mosse strana. Questo cavallo è tipico che vada qua. Torre C8. Mettiamo che mi invento per far giocare questo cavallo. Ok, potrebbe saltare qui. Magari ha il suo perché. E altrimenti vi sorprenderò con questa manovra strana. Tac, tac. Occupazione della casa C3. Questa è la mia idea. D'accordo. Di qua cavallo B5. Occupazione della casa C3. Quello che raccontavo prima è quello che voglio cercare di realizzare. Allora, se io arrocco, lui mi vuole dare matto con cavallo G5 e donna H4. Però io arrocco, cavallo G5, torre D8. Quindi cavallo G5, torre D8, donna H4, cavallo F8. Donna H4, neutralizzo il matto. Ok. Quindi ho lasciato casa libera al mio cavallo. E qui penso che sia giunto il momento di dire la nostra e provare a entrare. Tipo catturo, catturo, cavallo C3. Facciamo cavallo F8. Mossa di attesa. E su questa... Magari sto fermo. Torre C6. Anzi, torre C7. Così, diamo uno sguardo in difesa. Se mi catturi, prendo di cavallo e poi torno indietro. Se spingi, che magari è quella più tagliente e interessante, comunque ti catturo. Devo ricredermi sul fatto che mi ha recuperato il tempo. Ho detto prima, 30 secondi in più li mantengo fino alla fine. Effettivamente no. Allora, vi racconto il mio piano. Torre C8. Ok, cavallo per. D'accordo. Torre C8 è il mio piano. Con l'idea di entrare... Qui c'è una tattica. Perché cavallo per C3 sembra essere impresa. Ok, forse era... Un'idea sua. Un'idea di cattura ancora. Occhio a questa pressione. E forse è qualcosa di voluto quello che ha fatto. Ehm, allora, penso di star meglio. Se F5, ed è questo. Cavallo e 4 restituisco un pedone per entrare. Allora, poi entra qui. Allora, su questa catturo. Allora, provo a fare qualcosa di facile. Restituire, quando sia in vantaggio, sempre qualcosa di... In modo più facile. L'approccio è più facile. Quindi, quello che voglio ottenere adesso. E qui, torna C5. Finiscono... Cala il sipario, no? Questa è inchiodata. E arriva questa mossa. Ha un cavallo per E6. Intermedia. Però pedone per. Dora C5, credo che cala il sipario. Questa è una torre inchiodata. E... Torre D8. Ok, questa ti catturo. Torre F7. Questa è inchiodata. Quindi la minaccia è torre per D4. Guardate che differenza. Ok, qui donna... Va bene, donna B6, perdo. Allora, torre per. Pedone per. Scacco. Dovrebbe vincere. Scacco. Questo è un pedone che... Che promette bene. Cavallo F4. Scacco. Mi difendo. Questo è un pedone sul quale investiamo tutta la nostra attenzione. Così come dobbiamo dare tanta attenzione al tempo. Tema di matto. Nell'aria. Allora, su questo scacco mi difendo? No. Sì, mi difendo. Spingiamo. Dai, mi sono perso questo. Rattore D5. Un po' di fortuna. Non l'avevo vista. Fortunatamente... In E2, quindi su G3, E2. Ok, G3 non ce l'abbiamo più. E cavallo E6. Ahi, qua sta. Va bene. Non ho più tempo. Ok, torre C5. Devo raggruppare i pezzi. Questa è una posizione tecnicamente vinta. Torre qui. Quindi eliminare C6 e poi eliminare gli altri. Donne 7, sembra forte. E torre C8. C7. RF7. Tutto sotto controllo. Un po' strano. Però funziona. E su questo... Pariamo lo stesso giochetto dall'altro lato. Quindi ti blocco una volta. Ti blocco con l'altra. Quindi Rai via. E questo. Poi avviciniamo il Rai. E ci mangiamo il pedone. Esattamente la stessa tecnica di prima. E Rai7. Ce ne andiamo. E Torre C6. Ci sono delle mosse. Delle quali non ho. Intanto ho bisogno di pensare. E me le vado. Voglio pareggiare. Adesso lo stesso giochetto di prima. Quindi questa. Poi metto la Torre dietro e mangio il pedone. Torre qui. E Torre F7. E Torre F7. Va bene. Difendo tutto. Ok. Cavallo difende. Si. Si ricomincia. E andiamo qui. Questa. Siamo difesi. Adesso dobbiamo svincolare le torri. Arriva la prima torre. Ehm. Ok. Ciochiamo per il matto. Scacco. Questa. Forse cavallo 4. Porta per il matto. Va bene. Ti inchiodo. Questa ce la portiamo a casa. Mossa di attesa per guadagnare secondi. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Bene. 6 punti e mezzo. Recordo delle dirette. Per quanto riguarda il Tattoo Tuesday.